subito lo incolliamo, capito? Allora tu adesso vai con calma a pulire qua tra le fughe, per ora fai questa operazione però adesso aspetti a sbrullare perché abbiamo appena riattaccato qui, bravo, fai così, poi su, basta, così si apre, vedi? vediamo domani, ok, tutte le fughe, dove tu vedi che c'è, e qua si fa la prova, che è questa, si mette in controluce, quando tu vedi che non c'è niente, allora è pulito, però vedi che non c'è, si vede, capito? Questa è la prova, ok? però fai un po' di non ti devi fare il vino, cioè non è che ti devi no, non è che ti devi no, non è che ti devi ti devi stentare anche se va fatto è un po' non io quello che dici, va bene? allora non si allora si Grazie. Poi lì ce ne sono altri, quindi devo scegliere altri. Sì, sì, c'è 3 euro, ma non mi piace. Angelo, tieni prima a rispondere.